C&F Universal System con questo upgrade la C&F è riuscita a migliorare ulteriormente le sue famose scatole questo sistema rende le scatole C&F molto versatili dandoci la possibilità di andare ad inserire all'interno delle scatole degli inserti differenti a seconda delle nostre necessità le scatole come già eravamo abituati sono disponibili in tre misure c'è la misura S questa qui più piccolina c'è la misura M e c'è la misura L la differenza tra le precedenti scatole e queste nuove è che quando acquistiamo una scatola C&F con il sistema Universal System la scatola arriverà vuota abbiamo poi la possibilità di acquistare separatamente i vari inserti da andare ad inserire nelle scatole gli inserti sono anche loro in tre misure S M ed L e in varie tipologie abbiamo la MIG la standard la attractor e la streamer tre misure differenti e quattro tipologie di inserti in foam questo cosa vuol dire che noi possiamo acquistare la nostra case e poi separatamente andare a scegliere che tipo di inserto andare a mettere all'interno quindi non dobbiamo più scegliere in fase di acquisto quale inserto vogliamo nella nostra scatola ma possiamo scegliere di andare a comprare un inserto di un tipo e un inserto di un altro tipo questo perché avremo la possibilità di andare ad equipaggiare le nostre scatole a seconda delle nostre necessità per esempio se volessimo fare una scatola dove da un lato mettiamo le ninfe e dall'altro lato mettiamo magari non so degli attractor potremmo comprare il case e separatamente prendere un inserto standard o MIG per le ninfe è un inserto attractor da utilizzare per le mosche più grandi quindi così andremo a personalizzare le nostre scatole tutto questo reso facile e veloce proprio dal universal system questo cosa vuol dire che questa è una scatola già con gli inserti all'interno e io posso andare a sganciare l'inserto con le mosche ed andare ad inserire uno nuovo o uno con altre mosche questo ci permette di avere vari inserti magari già pronti a casa e andarli a sostituire in base all'uscita di pesca che andiamo a fare facciamo un esempio questa scatola equipaggiata con attractor e con delle segg se per caso io volessi decidere di lasciare a casa le segg e portare solo gli attractor non dovrei far altro che sganciare la pagina degli attractor la posso riporre e custodire a casa in quest'altra scatola qui ho delle effimere grandi da caccia quindi magari voglio portare queste al posto delle segg vado a smontare anche qui la paginetta con le mosche che voglio portare e non faccio altro che andarle ad innestare nella scatola che voglio portare a pesca in maniera semplice e veloce le possibilità sono davvero infinite le scatole sono come dicevo prima nelle tre misure quindi c'è questa larga c'è la media e c'è la small per tutte le necessità tutte sono equipaggiabili con tutte le tipologie di form con questo universal system la cndf design è riuscita a migliorare ulteriormente la nostra esperienza di pesca